Un saluto da Lettigi della mobilità a limitazione al passaggio dei veicoli con una massa superiore alle 7,5 tonnellate sul ponte della Scafa. Per questa ragione la linea di bus 060 che collega Ostia con l'aeroporto di Fiumicino da oggi è temporaneamente sospesa. Le altre notizie. Nel pomeriggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà al Mausoleo Ardiatino per la cerimonia commemorativa dell'Eccidio delle Fosse Ardiatine. Sul fronte della viabilità nella zona del Mausoleo Ardiatino sono previsti divieti di sosta con possibili rallentamenti. Infine avanzano le potature su Biale Regina Margherita, da oggi sono tra Piazza Buenos Aires e Vianizza. Restano i bus navetta sulla linea 3 lungo tutto il percorso e anche per la linea 19 tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento.